Beh ragazzi, a grandissima richiesta, ma soprattutto del sottoscritto, riparte la rubrica che ho un attimino accantonato qualche mese fa, la rubrica inerente ai migliori film anni 50, 60, 70 e ancora più su, i film che hanno contraddistinto dal mio punto di vista il cinema italiano, rubrica potenzialmente infinita, visto e considerato che sono un amante, un assoluto amante dei film, ma soprattutto degli attori che furono. Ho accantonato un attimino il principe della risata Totò, ma non ho finito con lui e mi sono spostato da tutt'altra parte con tutt'altri attori. Arrivano i dollari 1957, regia di Mario Costa, un parterre di tutto rispetto. Ora vi dico un attimino di che film si tratta. Si tratta di Cinque Fratelli, il loro cognome è Pasti, uno diverso dall'altro, uno più particolare dell'altro, ma che hanno un unico comune denominatore, ovvero l'amore per il denaro. E il denaro arriverà così all'improvviso da zio Arduino, morto in Sudafrica, ha lasciato l'eredità praticamente a tutti quanti i nipoti e manderà in Italia sua zia Caterina in più, insieme al notario. E da qui partirà la trama. Non voglio spoilervi più di tanto, mi auguro che dopo questo video li diate un'occhiata. Comunque sia già vi ho detto la situazione, da dove parte. A questo punto scusate queste escalation, ma voglio parlare dei protagonisti. Saranno i primi, saranno gli ultimi, non sono messi in base al mio gradimento, ma insomma così per caso. Partiamo da lui, il primo dei cinque fratelli, chiaramente il mitico Alberto Sordi, parliamo di Alfonso Pasti, o meglio Conte Alfonso Pasti, marito vedovo di Elvira, la contessa Elvira che è morta in situazioni abbastanza strane che lui stesso dice è meglio non indagare. Ha lasciato da parte il lavoro del parrucchiere e vuole tenersi assolutamente il casato. Da ora in poi vuole essere chiamato il Conte Alfonso, grande, grande protagonista. Troviamo un Alberto Sordi molto giovane, non al suo debutto. Avrà fatto prima un 4-5 film che l'hanno già fatto crescere a livello di fama, ma qui secondo me mette il puntino su lui. Conosciamo assolutamente il mitico e grandissimo attore romano. Il secondo fratello, ovviamente ragazzi lo conoscete tutti, il mitico Nino Taranto, fa Giuseppe Pasti, grande proprietario terriero, pensate un po', 45 ettari di terra. Ma una grande caratteristica è un avaro di quei incredibili. Si ha tanti soldi, si ha tanta terra da coltivare, ma tiene tutto chiuso in casa, tiene tutto chiuso sotto chiave, ma soprattutto pretende dal suo fratello Alfonso che li paghi due cambiali in protesta. Attore incredibile, attore assoluto, le sue parti o che siano comiche o che siano meno comiche rendono il film una gioia per gli occhi. Terzo fratello, un po' diverso a tutti quanti gli altri, Piero Pasti. Piero Pasti è il proprietario di un garage, di lui si dice essere un latirover, un Don Giovanni. Beh ragazzi, è un bel ragazzo e ovviamente su di lui si concentrano le figure femminili. Un personaggio un po' particolare che esce un po' un attimino dai rangi. quarto fratello è Cesaretto Pasti, di lui si dice di essere infingardo, di lui si dice di essere un briacone, non ha mai, mai, mai lavorato in vita sua, ma lui si definisce cultore della bella vita, nonché ex fidanzato, ex fidanzato dalla moglie del quinto fratello, ovvero Michelino Pasti ragazzi. Se lo inquadrate bene, non vi ricorda nessuno dei tempi moderni? Eh oddio, tempi moderni, parliamo sempre degli anni Ottanta? Beh, lui è il nonno di Pierino. L'ho scoperto stamattina ragazzi, stamattina, avanti, vi devo dire la verità. Come ho detto, è vero, avevo una faccia conosciuta e lui è il classico nonno di Pierino, chiaramente nella parte più avanzata della sua carriera, municipio, casa, casa, municipio. Geloso da far paura, ha una moglie molto attraente, la chiude, chiude in casa per non fare entrare nessuno, neanche i suoi fratelli, è geloso di tutto e di tutte, comprese le donne. È lei la prima donna, ovvero zia Caterina, ex moglie di zio Arduino defunto, che arriva in Italia insieme, chiaramente, al suo notaio femmina. È una zia Caterina molto particolare, perché inizialmente fa un giochetto con il notaio, non vi voglio spoilerare nulla ragazzi, mi auguro che dopo questo video andiate in massa a vedere questo film e magari mi commentate sotto con un vostro giudizio. Una zia particolare che cambia le carte in tavola inizialmente e nel finale, boom ragazzi, boom, non vi dico assolutamente nulla. Seconda donna ragazzi, questa è Agnese, la moglie chiusa e richiusa e richiusa in casa di Michelino Pasti, una bellissima donna assolutamente. Lui è Giovannino, il classico galoppino del Conte Alfonso. Lo chiama vecchio, lo chiama Bertuccia, lo chiama ragno velenoso, mangia ti sto pappone, oppure mangia ti sti cocci di noci. Ragazzi, questo è un attore molto particolare, un attore che fa ridere. Viene praticamente schiavizzato, ovviamente parliamo di un film abbastanza comico, dal Conte Alfonso, ma ha un ruolo importante, perché non è soltanto il classico galoppino di Conte Alfonso, però è colui che usa il cervello. Inizialmente fa una piccola cavolata, però poi mette Conte Alfonso davanti alla verità e da qui il suo ruolo è sempre all'altezza della situazione. Ultima attrice, ma non per importanza, è lei. Praticamente lei è il notaio che inizialmente si mette d'accordo, come ho detto prima, con zia Caterina per creare un... Eh, ho detto tutto, basta così ragazzi. Beh, che dirvi, il video termina qui. Mi auguro che sia stato chiaramente di vostro gradimento, ma come ho detto e ridetto più volte, mi auguro altrettanto che andiate a vedere questo film, dura penso un'ora e venti. Che dire, un film che secondo me è molto sottovalutato, non l'ho mai, mai visto in tv, l'ho sempre visto su youtube già da diverso tempo, grazie a Film Eclipse. È un bel film, è un bel film, magari alcuni personaggi, dopo la conoscenza iniziale, perdono un attimino di caratterizzazioni, diciamo qui c'è un po' da lavorare, chiaramente non si può lavorare più sotto questo punto di vista. Però insomma, arriva un punto dove qualche attore perde un po' l'essere principale della storia. Ovviamente i più si mettono in mostra, come Nino Taranto, come Alberto Sordi, come Piero Pasti, che diventerà un po' una sorta di spartiacque. Ecco, un film che poteva essere secondo me un po' più riempito di trama, alla fine si vede che devono arrivare al dunque, è un peccato, però un film che comunque sia, se non è un capolavoro, sia ben chiaro, però è un film che ragazzi fa ridere dall'inizio alla fine ed è un film che veramente mette a nudo diversi caratteri, anche nostri, che alla fine di fronte ai soldi ragazzi tutti quanti che ci potiamo anche trasformare. Allora molti di loro per avere l'eredità si devono comportare in una certa maniera, escono fuori dal ruolo. Insomma ragazzi non vi voglio dire assolutamente niente. Mi auguro che questo video sia una sorta di spunto per andarvi a vedere il film. Noi ci vediamo in un prossimo video, questa rubrica non la lascerò mai perché mi fa veramente divertire. Ciao bella gente e buon weekend a tutti. Ciao.